Calcio serie C a 24 ore dalla fine del mercato resta sempre più difficile la partenza da Gubbio di Casoli. Serie B il Perugia piazza il colpo cacciatore in difesa e presenta Carraro. Eccellenze il Foligno non va oltre il pari al Blasone col Ponte Valleceppi e non riesce a staccare Lama e Spoleto. Volley serata di Champions al Parabarton per la Sir Perugia, Karate e Giovani Ogubini sugli scudi. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione sportiva da TRG. Il calcio è la serie C in primo piano con il Gubbio che procede con le sue dedute di allenamento in vista della trasferta di sabato a Fano. A 24 ore dalla fine del mercato in entrata la società pensa ad integrare la rosa con un difensore under considerando che Paolelli potrebbe rimanere ai box per diverso tempo. Per quanto riguarda il possibile addio di Casoli, paventato ormai da giorni e non convocato sabato scorso proprio per ragioni legate al mercato dell'ultimo turno, ma al momento non esiste una trattativa tra la società e Giovani e il Catanzaro che avrebbe contattato solo il giocatore in scadenza di contratto a giugno. Difficile che l'affare vada in porto vista anche l'immediata deadline, ovvero domani la scadenza, anche se il DS Pannaccia come prima alternativa a Defeo della Lucchese, mentre complessa l'idea di rivedere il rosso-blu Calumbo tornato alla Salernitana dopo la fine dell'esperienza con la propria Cenza. E in campo stasera alle 20.30 la Ternana, pronta a disputare a Rocchi di Viterbo gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C contro la Viterbese, il match è eliminazione diretta con supplementari rigori in caso di parità. Mister Calori farà ampio turnover e il modulo di partenza sarà il 3-5-2, con sicuro assente il centrocampista Salzano, ormai promesso sposo al Livorno, mentre ci sarà l'esterno Mancino Lopez che resterà in rosso-verde dopo la trattativa saltata con la Salernitana. Intanto si è svolto oggi a Roma il Consiglio federale della FIGC tra le novità di rilievo l'approvazione della Serie B a 20 squadre a partire dalla prossima stagione. Per questa stagione dunque le promozioni dalla Lega Pro in Serie B saranno 5 e non 4, mentre le retrocessioni dalla Lega Pro alla Serie D diminuiranno a 7. E intanto proprio in Serie B piazza un gran colpo di mercato il Perugia che ha praticamente chiuso l'acquisto dal Chievo Verona, del difensore classe 86 Fabrizio Cacciatore, reduce da 6 annati in Serie A con le maglie di Elas Verona, Sampdoria e appunto Chievo. L'arrivo di Cacciatore è un passato anche al Foligno, Cacciatore che può giocare sia laterale che centrale, porta la Dion Gawa che salpa al Foggia dove è già prodato le ali nello scambio di portieri che ha coinvolto l'esperto Bizzarri ora secondo di Gabriel. Chi invece è appena arrivato al grifo è il ventenne Marco Carraro, reduce dall'esperienza proprio al Foggia ma di proprietà dell'Atalanta e cresciuto nell'Inter. Sentiamo le sue prime parole. Sono stato colpito dall'ambizione, dagli obiettivi che vuole raggiungere questa società e spero di poter contribuire anch'io quest'anno magari a raggiungere dei traguardi importanti. Il mio ruolo naturale è mediano davanti alla difesa, poi qualche volta ho fatto anche la mezzala però diciamo che dove riesco a esprimermi meglio è davanti alla difesa. Fino a un mese prima della sosta ho sempre giocato, poi con l'arrivo di Padalino la società e il ministro hanno fatto altre scelte e è venuta fuori questa possibilità e non ci ho pensato due volte e ho accettato subito. Cosa ho imparato dall'Inter? Ho imparato la professionalità, la serietà di quei grandi campioni che si presentavano comunque sempre molto presto agli allenamenti. Lavoravano molto sia prima dell'allenamento che dopo e quindi sono stato sicuramente colpito dalla professionalità prima di tutto. Chi non vorrebbe giocare in Serie A? Penso sia il sogno di qualunque giocatore giocare in Serie A, però adesso sono qui a Perugia e devo cercare di far bene, pensare a Perugia e insomma non vedo l'ora di scendere in campo. Adesso vediamo questi mesi come vanno, poi abbiamo parlato con la società che se c'è questa possibilità sicuramente la prima scelta sarà rimanere qua. Restiamo al calcio, parliamo dei direttanti perché in eccellenza il Foligno nonostante il pari dell'Ama Eller e la sconfitta dello Spoleto con la Sisi Subasio non riesce ad andare in fuga dopo essere stato fermato al Blasone dal Ponte Valleceppi. Il servizio di Giorgio Malucelli. Dopo il 9 a 2 dell'andata il Foligno si fa imporre al Blasone il pareggio dalla formazione di Fabrizio Ciucarelli. Eroe della giornata e migliori in campo in senso assoluto l'ex portiere del Foligno calcio Michele Mischierini che ha parato anche l'impossibile mantenendo a gallo la propria squadra, soprattutto nella prima frazione pur subendo la rete del passio con cui gli ospiti hanno terminato i primi 45 minuti. La ripresa è un Foligno che non ti aspetti, scomposto e senza idee da avversari più vogliosi e brillanti che raggiungono meritatamente il pari al 36esimo anche se la rete sembrerebbe viziata da un vistoso fallo da dietro dall'attaccante ospite sul difesore Folignate a limite aria. Ma vediamo in sintesi le note migliori del match. Nono minuto, angolo per i falchetti, batte Ventagni, palla in aria con mezza girata di Ginai, risponde Biscarini alzando in angolo. Poco dopo, al tredicesimo, il gol dei padoni di casa, intervento alto di Biscarini, palla recuperata sulla fascia destra dal Foligno e cross in aria. Fanini intercetta di testa servendo involontariamente Peluso che dai 10 metri spedisce imparabilmente alla destra di Biscarini. Con una bandiera degli ultras Folignati da sventolare davanti alla telecamera, il Foligno cerca Varchi per arrivare in aria avversaria, ma quando ci riesce, Biscarini dice sempre di no, come al ventunesimo, quando ferma a terra un tiro di girai, al tredesettesimo, sbrogliando una situazione critica in aria, e dal quarantatresimo, chiudendo su un cross dalla sinistra e con l'aiuto di Gian Battista impedendo da Peluso il colpo di testa verso rete. La ripresa all'insegna degli ospiti è con un Foligno irriconoscibile, senza mordente e con nessuna idea, mentre il Ponte Valleceppi incalza per arrivare al pareggio. Roani viene impegnato abbastanza seriamente in un paio di occasioni, comunque Biscarini è ancora in evidenza al quindicesimo, sul colpo di testa di Peluso. Falchetti sempre in difficoltà e dal trentesiquesimo arriva il pari. Fanini lagge in verticale su Betti che si libera dalla marcatoria di Pagliarini, spingendolo da dietro e mandandola a terra. Poi sull'uscita non convinta Tiroani, visto il fallo dell'attaccante Perugino, con un pallonetto mette in rete. Il Foligno, per l'ultimo sforzo, si gettina avanti e dal quarantunesimo, Pettarini lancia su Peluso che da fondo campo manda Giapecucci in mezzo all'aria, ma ancora una volta Biscarini dice di no, ripetendosi poco dopo. Nelle fasi finali della gara, gli ospiti in dieci, per l'espulsione di Ragnacci, reale un fallo a gioco fermo e nei cinque minuti di recupero, al quarantottesimo, Foligno ancora vicino al gol. Poi i rimpianti, nelle file bianche azzurre, e la soddisfazione dei ragazzi di Zuccarelli. Abbiamo fatto un bel primo tempo e abbiamo creato diverse opportunità e dovevamo essere più bravi, secondo me, a sfruttare meglio quelle situazioni per andare magari sul doppio vantaggio. Invece non ci siamo riusciti. Sì, credo che la capabilità e il fatto di rimanere in partita fino alla fine ci ha premiato su un errore, non so se era errore, comunque la qui non ho visto bene, è stato comunque bravo Betti a segnare e a riuscire a portare a casa un punto importante in un campo difficile e siamo contenti. E chiudiamo parlando di karate, karate club Gubbio, perché la scuola diretta dal maestro Gaetano Pierotti, cintura nera Sesto Dan, dopo il meritato successo ottenuto con l'allieva Annalisa Casini, tuttora campionessa del mondo in carica, sta di nuovo conducendo i suoi ragazzi sulla strada del successo. Recentemente accaduta la Coppa della Befana di Pistoia, competizione nazionale riservata ai ragazzi dai 7 ai 14 anni, denominata perché in passato si svolgeva proprio a ridosso dell'Epifania. Tra i 450 partecipanti alla Kermess, in sei della spedizione Gubbina hanno ottenuto risultati lusinghieri, secondo posto a pari merito per il 14enne Nicolò Comaniciu e primo sempre a pari merito per l'11enne Elisabetta Comaniciu. Secondo assoluto alla parietà Sofia Ambrogi, mentre Ginevra Mariani, 9 anni, è arrivata prima a pari merito. Seconda pari merito Denise Fiorucci nella classe 2012, mentre Giacomo Muzzini del 2010 ha chiuso in terza piazza. Da segnalare anche i quarti posti di Ethan Cala e Nicolò Di Matteo, ambedue di 7 anni. Insomma, giovani promesse per il karate e Ugubino. Noi chiudiamo qui ricordandovi stasera l'appuntamento con il volley di Champions League, la Sir Perugia in campo contro i francesi del Tour al Parabarton. Ricordandovi, sempre per lo sport, l'approfondimento, perché di sport ne ha fatto tanto con le sue imprese, soprattutto a New York, l'approfondimento di questa sera ai TRG Plus dedicato ovviamente a Leonardo Cenci, che oggi ci ha lasciato, ma la cui impronta e il cui messaggio restano sicuramente con noi. Grazie per averci seguito. Questa edizione del TG Sport andrà in replica alla mezzanotte 30 e domani la ritroverete su trgmedia.it. Buona serata. Buona serata.